Ecco, là io vedo mia madre. Ecco, là io vedo mio padre. Ecco, ora chiamano lei. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. Portiamo le sue ceneri sul picco dei regni. Ceneri? L'ho chiesto lei. Dove dobbiamo andare? In un regno al di là del posto. C'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. So che sei un regno. Non di questo regno, ma non c'è un bravo dubbio. Prima dovrai tagliarmi la testa. Non lo sa, vero? Della tua vera natura. Più aspetterai e peggio sarà. Non te lo perdonerai e rischi di perderlo per sempre. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Io sono un dio. Lo sei anche tu. Essere un dio, dire vivere Trangos. Quella sciacchia! Devi trattarla in modo speciale! Che cosa hai fatto? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a sapere? A te mi devo pensare a te. Dove poterlo? No! No! Come in! No! 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 Vandor, lascia listas! No! No! Tu, mia tua natura, non saranno il mio scelto. Un momento in cui ti avrai. E cos'era? Il quarto! Il scelto! Yodda... Ci siamo! Fai la morte! No! C'è via il dolo! Ti sono un pezzo! Ma è la tua natura, c'è lei! No! 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 Ragazzo! C'è stato pronto! Che fai lasciato? Che fai lasciato? Che fai lasciato? Che fai lasciato? Torna alla tua casa. Sei libera. Oddio, Fai. Torniamo a casa ora. Dormi. Sto già dormendo. Poi. Sì. Poi. Sì. Grazie a tutti.